Sensibilità, sicurezza e decoro sono le nuove parole d'ordine della Giunta Fracassi per quanto riguarda l'approccio con il cimitero. Si è perfettamente da ragione, infatti da quando si è insediata la nostra Giunta ci siamo immediatamente occupati di quello che era lo stato d'abbandono del cimitero monumentale e dei tre cimiteri minori. Siamo intervenuti nell'immediato con la pulizia del famedio che ancora oggi chi va e può andare a visitarlo lo trova in uno stato di decoro dal punto di vista della sicurezza perché abbiamo inserito all'interno del cimitero monumentale anche dei tre cimiteri minori degli operatori addetti alla sicurezza e poi chiaramente c'è anche una sensibilità spiccata da parte mia, sicuramente che sono l'assessore ai servizi cimiteriali nel rispetto di quelli che sono i luoghi di culto, di quelli che sono i luoghi di riposo eterno, quindi dove ci sono i nostri defunti. In domenica 27 ottobre poi insieme alla Socren, che è la società di cremazione pavese, abbiamo organizzato un evento all'interno del cimitero monumentale che a mio avviso possiamo definire proprio un museo a cielo aperto e alle 13.30 partirà una visita guidata per poi raggiungere alle 15 la sala del commiato dove si terrà il concerto gospel organizzato dalla Socrem. Il comune di Pavia ha ritenuto doveroso patrocinare questa iniziativa. Ecco Presidente, per quale motivo la terza domenica di ottobre per la Socrem è una data molto importante? Trent'anni fa abbiamo deciso di dedicare la terza domenica di ottobre ad una giornata nazionale della cremazione. Da trent'anni quindi stiamo sviluppando iniziative un po' in tutta Italia dove le Socrem sono attive per celebrare questa domenica e per celebrare la cremazione in senso alato. Tenendo conto che in questi trent'anni la cremazione in Italia si è molto voluta e aumentata ed è passata da un 15% a un 45% dato nazionale. L'Alta Italia è al 52%. Il cimitero maggiore di Pavia è un vero museo a cielo aperto e ci sono molte opere d'arte da ammirare. Eh sì certo, allora ho dovuto comunque fare una scelta perché il tempo che ho a disposizione è circa un'ora per cui mi soffermerò su qualche monumento sepolcrale nei quattro portici comunque perché farò tutti e quattro i portici e poi qualche cosa di monumenti particolari all'interno dove ci sono le uole eccetera eccetera e sicuramente qualcosa sul famedio, sull'ossario e due parole anche sul monumento a Paolo Gorini.